una registrazione video in 4k dci con 1 plus 1, facciamo una sbalza di luce veloce, passiamo in macro con un tap possiamo effettuare uno zoom, o meglio un focus, scusate lo zoom con un pinch to zoom non si è semplice da vedere il volatil, tutto android.net 1 plus 1 4k dci